Festa dell'Europa, il presidente Mazzeo, il nostro futuro. Passa da un'unione più forte, la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana. L'Europa non è qualcosa di altro da noi, ma l'Europa siamo noi e come Toscana ne costituiamo le radici più vere e più profonde. Un messaggio forte, quello pronunciato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nella prima seduta solenne dedicata alla Festa dell'Europa. Un messaggio che fa proprio lo slogan coniato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen qualche giorno fa proprio a Firenze. I care, we care, mi sta a cuore, ci sta a cuore, citando direttamente le parole di Don Lorenzo Milani. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il presidente Gazzetti, tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale, un segnale importante. Importante, oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Il manifesto di Vento Tene, Altero Spinelli, le parole di Schumann il 9 maggio 1950. Sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente D'Eussè danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Una sfida che stiamo cogliendo, una sfida che non ha colori e connotati politici e una sfida per dare più risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Intervenuto alla seduta del Consiglio solenne il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha ringraziato il Presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo e di 40 consiglieri per aver voluto consentire nell'Aula un pensiero speciale, particolare, per un'Europa che è il riferimento della comunità. Riferimento, ha concluso Giani, dei nostri ideali, dei nostri sogni e del nostro modo di vivere la prospettiva di crescita e di civiltà a livello mondiale. Molto importante. In realtà il giorno dell'Europa, sappiamo, è il 9 maggio e si sono susseguite tante iniziative che oggi trovano la loro legittimazione per la Toscana con la seduta solenne. L'Europa è il nostro punto di riferimento da un punto di vista anche concreto nella percezione della gente oggi che si parli di vaccino e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale. O che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo, perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini e allora vale la pena vivere come la Toscana ospita l'università europea e devo dire che sotto questo aspetto il prossimo anno saranno 50 anni da quel 1972 quando esponenti che nel nostro Paese erano toscani avevano ruoli importanti, penso a D'Avintore Fanfani, a Giorgio Lapira volero che fosse proprio nelle colline di Fiesole avere un'università che dalla Toscana fosse l'università per la formazione della nuova classe dirigente in Europa. O si parla dei rapporti che possono portare nuovi investimenti come vi dicevo non solo dei recovery fund ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027 l'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente sempre più un'Europa che le decisioni le prende come Europa dei popoli non come Europa degli Stati. La Commissione Europa è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo in questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso tra l'altro questa trasformazione noi la dobbiamo grazie al lavoro proprio della precedente legislatura a chi ha guidato e a chi ha collaborato ovviamente con il precedente Presidente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi e soprattutto stiamo cercando di lavorare all'insegna di un clima che è un clima di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero ovvero quello di una collaborazione e soprattutto una condivisione. Noi abbiamo portato a termine una proposta, una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana è l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa perché è sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al Next Generation, al Recovery passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo e se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana potremmo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Sono orgoglioso di farne parte con il Presidente Gazzetti abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo a capire quelli che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quelli che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana per cui siamo al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni abbiamo ampliato le nostre conoscenze e speriamo nel breve tempo possibile di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. In apertura della seduta anche il contributo in videomessaggio del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli e del Presidente dell'Istituto Universitario europeo, Renaud D'Orsay. Gentile Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo caro Presidente Eugenio Giani caro Presidente Francesco Gazzetti amiche, consiglieri vi ringrazio per il vostro invito purtroppo in questo momento non è possibile incontrarci ma desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti congratularmi con la Commissione Europa del Consiglio regionale per aver promosso e organizzato questa seduta solenne il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi cittadini d'Europa la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace che ci ha accompagnato per oltre 70 anni mai come in questo momento risuonano attuali le parole in particolare di Robert Schumann quando nel 1950 apri la sua celebre dichiarazione gli scrisse l'Europa non potrà farsi in una sola volta ne sarà costruita tutta insieme ma si farà attraverso realizzazioni concrete creando prima di tutto una solidarietà di fatto la forza di quelle parole attraversa la nostra storia comune ci indica la strada che dobbiamo percorrere anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque e lo sarà anche in futuro perché è un evento devastante inatteso il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole che specialmente negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che produrre fratture disuguaglianze nel nostro corpo sociale tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici la risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto la pandemia non può essere una parentesi ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto con meno disuguaglianze credo che la Toscana non solo farà la sua parte ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo Signor Presidente signori membri del Consiglio regionale è un grande piacere per me essere con voi per questa festa dell'Europa purtroppo non ho potuto presenziare in persona per via di impegni anteriori ma ci tenevo in qualche modo ad associare l'Istituto Universitario Europeo a questa celebrazione cercando di dar senso alla festa dell'Europa la tendazione naturale è di richiamarsi ai padri fondatori dell'Europa ma naturalmente dobbiamo cercare di capire la parte fondamentale del loro messaggio del loro contributo alla nostra storia sappiamo che quando fu avviata la costruzione europea era con dei fini ben precisi la pace, la ricostruzione ormai il mondo è cambiato e questi fini forse non hanno la stessa forza agli occhi delle giovani generazioni ma dobbiamo chiederci non ci sono oggi motivi di un'altra natura che ci portano a fare lo stesso tipo di scelte prendete ad esempio la situazione in cui ci troviamo ora per via della pandemia all'inizio la pandemia era un problema cinese si sperava che il virus sarebbe rimasto lì poi quando è arrivata in Europa per alcune settimane tutti hanno creduto che fosse un problema italiano ma ora sappiamo che è un problema che riguarda l'intera Europa anzi riguarda il mondo intero per cui è impossibile immaginare che un paese da solo riesca a far fronte ad una minaccia a una sfida di una tale ampiezza va detto che in questo contesto il ruolo dell'Europa è stato decisivo in un campo permettetemi di ricordarlo un campo in cui in teoria quello della salute non è di competenza europea eppure abbiamo visto quanto decisivo è stata l'azione delle istituzioni europee spero che avremo modo insieme di definire modalità di collaborazione per il futuro e che troveremo così un modo di giocare la nostra parte di dare un nostro contributo alla costruzione europea grazie per la vostra attenzione e buona festa dell'Europa grazie per la vostra attenzione